buonasera team dei giochini e benvenuti in questo nuovo video io sono il giochino e quest'oggi andremo con la prima partita di bros stars vi chiedo in anticipo scusa se farò partite brutte solo che essendo la prima volta che gioco a bros stars ci può anche stare che perda tutte le partite quindi non perdiamoci in chiacchiera e cominciamo subito col gioco vamos aspettiamo i partecipanti via allora let's go get him e botta risale oh oh let's go ma non posso portare sto video non posso proprio sto facendo proprio schifo schifo proprio portare sto oh 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 or oh 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 Grazie a tutti. Ok, ma è così qua. Fantastico la minchia. Ok, andiamo ad aprire la prima cassa. Ok, andiamo a ricaricare subito Shelly. Dove sei Shelly? Shelly migliora. Ok, torniamo indietro. Facciamo un'altra partita. Vediamo come va. Vediamo se va meglio. Altrimenti la cancelliamo. Allora, un attimo. Lo stop diventa bene. Quindi dico che posso anche... Allora, un attimo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, stiamo lavorando per noi. Facciamo pure così, perfetto. Facciamo un'altra partita. Vediamo come va questa. Io sono sicuro che piano piano, piano piano, piano piano, molto molto lentamente, io stia migliorando. Questo poi, vi ribadisco, me lo scriverete nei commenti. Dio, la bomba siderale, è incredibile. Incredibile. Incredibile tutta! Allora, qua c'è una gemma. Prendiamo la gemma, prendiamola a posto. Muori! Ah, tu sei con me, ok, amico. No, non sei con me, tu, muori! Buono, sei morto, via. Muori pure tu! Ragazzi, mi aiuto! No, mi sto seguendo! Cacchio! Sono morto, sono morto! Però dai, piano piano, il miglioramento c'è. Il miglioramento, piano piano, si nota, si nota, proprio, in maniera incredibile. Wow! Si vola! Distruggiamo tutte le cose, distruggiamo... Aiuto, nascondiamoci, ok. E partiamo al contraattacco! Contraattacco generale! Attacco, muori! Io non sarò mai il migliore, perfetto. Qua è una costruzione di panni. Scelli ancora, ragazzi, cresce, cresce, cresce! La mia Scelli cresce, sembra la mia bambinella. Piano piano che faccio crescere. Prendi e sblocca, certo! Ed eccoci qua! Bomba! Nita! Brawler, camino dei trofei. Nita, dà una scossa alla mischia con le sue devastanti onde d'urto. E se non bastasse con la super, può evocare un orso enorme che la assiste in battaglia. Raga, intanto apro quest'altro brawler. 3, 2, 1... Bomba! 17 monete e punti esperienza per la nostra vita. Attenzione! Ancora Scelli con punti energia. Scusate ragazzi, sono... Raffreddato. Allora, intanto Scelli, vediamo se può aumentare. No, però io per questo turno, ovviamente, facciamo la prova. Perché una volta che tu sblocchi un nuovo personaggio, la prova la devi fare. Però ragazzi, la partita precedenza sono morto solo una volta. Quindi, già c'è qualcosa di migliorato. Vediamo un pochettino il nostro personaggio che malafigura mi fa fare. Vediamo, vediamo. Voliamo assieme tutti quanti, tutti quanti... Ecco qua. Ci stava. Morire da eroe ci stava. Però è un nuovo personaggio e quindi... Scialla. Perfetto, adesso io mi vendigo con tutti voi. Ah, tu vuoi vincere? Sì, vuoi vincere. Ma lì, intanto va buccio. Perché? Dovete caricarvi. Ok, vieni, vieni, vieni. Ah, quindi, qua ho capito. Quindi si carica la potenza. Ma 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 ma. Sono morto di uova, ragazzi. Ma sono proprio scarso. Vabbè, dai. Un gioco. Bisogna impararci a giocare Prima di fare questi video Però io L'ho detto anche su Instagram Qualora vi vogliate cercare Io vi chiamo il Trattito basso Ho detto pure su Instagram Io farò questa partita Basterà la prima volta Che gioco a Brawl Stars Quindi se dovessi voler Per tutte le volte Capiate che il motivo E' questo Quindi diciamo che Secondo me Poi gli esperti di Brawl Stars Mi risponderanno Come prime volte Non penso che sia stato divertito Non penso che sia stato divertito Come prime volte E ora è stato Di solo E io mi racconda E io ripendo il divertito di energia Ad esempio questa cosa Che sto Non la sapevo Cioè non sapevo Che se tu ti mettevi dietro Un Un pilastro Prendemi di nuove energie E io questo Sono la terravo La sostenibilità Ora piano piano Che dite ragazzi Ultima partita Perché io pensavo così Attenzione Ho sbloccato un altro personaggio Non ci voglio credere Nuovo evento Vediamo Nuovo evento Vediamo Facciamo singolo Sopravvivenza Raga Singolo Gioca Questa sarà difficile Sarà l'ultima partita Raga Mi raccomando Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E che dire ragazzi Supportatemi Supportatemi Al massimo Perché Io sono ancora Uno youtuber Giovane Se youtuber Potete chiamarmi Perché io ancora Non mi riferisco Non mi ritengo Ancora uno youtuber Però Sto provando Diciamo la cosa E io Ok ragazzi Penso che quella Era una bomba Mi sono suicidato Ottimo Mi sono suicidato Ragazzi Ma non va bene Perché devo rifare Sto sopravvivenza Se me lo fanno rifare Se me lo concedono Ok Io la rifaccio Raga Perché Quello Avevo capito Che era una bomba Perché Ogni tanto Quando vedevo giocare Altre persone A bros stars Vedevo che rompevano Le casse Quindi pensavo Che erano Una cassa da rompere Ehi la Subito Attimbulata Ma che fa scherzare Questo me lo prendo Questo me lo prendo Questo me lo prendo Che vuoi tu Questa erba alta Sembra poca Dove ci sono Tutti pipistrelli Tipo zucco Guardati Che devi morire Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Bella 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 Si è fermato Ho vinto Raga Raga Vamo Il Il Che vince Guardate Che contentore Guardate Mamma Mi sa che Apriamo Un'altra Cassa Raga Ho fatto Un video Perché era andato Malissimo Il primo 3 2 1 E si Apre E allora 16 monete Food di energia Per vita Buono Food di energia Pure per scegli Amici Che sale Di livello Amici Nuovo obiettivo Va bene Poi lo facciamo Nel prossimo episodio Apriamo Questa cassa Vamos 13 monete Punti energia Per nita E punti energia Per scegli Attenzione 25 Ottimo Raga Perfetto E allora No Torniamo Ok Andiamo da nita Migliora scegli Scegli Ok Perfetto Scegli sta migliorata Vediamo nita Che mi dice Perfetto Niente Ok Ragazzi Il video Si conclude qui Spero Che sia stato Di vostro gradimento Mi raccomando Commentate Condividete Lasciate like E non ci vediamo In un prossimo video Mi raccomando Nei commenti Iscrivete se volete Un altro episodio O meno Dal Giacchini L'ho voluto Scaricare Solo per portare Qualcosa di innovativo Sul canale Per provare A farvi Diciamo noi Piacere sempre di più I miei video Il mio canale Quindi mi raccomando Condividete Commentate Lasciate like E seguitemi pure Nella pagina Instagram Il Trattino Basso Giacchino Trattino Basso Official Iscrivetevi Al canale Youtube E che dire Ragazzi Ci vedremo Prestissimo Prestissimo In un prossimo video Dal Giacchino Dal Giacchino È veramente tutto Vi saluto E vi do appuntamento A un prossimo video Bella Ciao Ciao Ciao